scopri tutti i dettagli su R101.it ora la redazione con l'approfondimento in primo piano su R101 parliamo del sisma in Emilia il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri ha incontrato i vigili del fuoco che operano nelle zone della provincia di Modena colpite dal terremoto una visita informale diversa da quella fatta subito dopo la scossa dall'ultimo maggio per salutare tutti ringraziando l'avete chiuso a fare un spirito diverso e quando sono arrivata a quella della scossa sono stati un angosso per l'andolo quando ci sono stati lavorando fuori una grande pressione forse non sarebbe da parte grazie a tutti